in atto ormai non ci si riesce. Ahimè, ahimè, nonostante io sia una donna di scienza, devo ammettere che abbiamo questa collegata a questo. E quello che vi voglio dire è che un professionista vi può portare a scoprire questo legame, a vedere quali sono i fattori che portano a lavorare con il cervello in un determinato modo e avere una risposta fisiologica e vi voglio lasciare per oggi una parola per me importante in tutto quello che faccio. Se potessi me la tatuerei tipo in fronte, mamma tranquilla non lo far mai, non mi preoccupare. Consapevolezza, ok? Consapevolezza se guardiamo un attimo l'etimologia significa consapere. Consapevolezza ci vuole nell'estetica perché se io ho un obiettivo estetico devo sapere come raggiungerlo e devo sapere cosa mi aspetto da questo obiettivo, perché sto ricercando questo obiettivo estetico. Consapevolezza ci vuole nella salute perché se mi devo prendere cura della mia salute lo devo volere veramente e devo mettere in atto tutte quelle informazioni che ho googleato la sera mentre sono sul divano. Consapevolezza sta allo sportivo, sta alla performance perché uno sportivo deve essere consapevole dei suoi limiti, di quello che può raggiungere, di quello che può fare. Io sono qua per dirvi che un percorso nutrizionale e ci sono alcune persone che lavorano con me da un po' di tempo, è un viaggio stupendo, è un viaggio difficile, difficilissimo, perché non vi prometto che il passaggio da A, B sarà tranquillo, sereno e tanto seguo la dieta della Camilla. E oltretutto vi vorrei parlare anche del fatto che odio in termine dieta e odio allo stesso tempo la bilancia. Sono d'accordo con quello che abbiamo detto adesso, perché le informazioni ce le abbiamo, abbiamo un numero che ci viene ripresentato davanti, ma che non tiene conto di questo collegato a questo. Ultima riflessione che facciamo insieme, naturalmente con tutte le informazioni che ci sono, io immagino questa scena, ditemi se sbaglio. Apro Instagram, apro Facebook, vado su Google e guardo che lo senzolo fa bene, la curcuma fa bene, i semini di tutti i tipi vanno bene, quindi io mi immagino col carrello a fare la spesa, ok allora la curcuma l'ho presa, il limone la mattina con l'acqua calda l'ho presa, i semi li ho presi e arrivate a casa, riempite la vostra dispensa e dite bene adesso? metto tutto nella pentola e provo a vedere se fuori ci viene una dieta o un'alimentazione corretta e poi l'altro problema qual è? Ho fatto scorta di pollo, riso, poi esce un articolo e mi dice però attenzione nel pollo c'è l'antibiotico e ci sono gli antibiotici, bene prendi il pollo, butta via tutto e ricomincia. Ci sono io per questo, non è un compito vostro barcamenarvi in mezzo a queste informazioni che ci vengono compartate. Essere seguiti da un professionista è questo, perché un professionista vi può guardare negli occhi vi può dire, oh accidenti, ti vedo stanco oggi, cos'è successo? Vi può dire, quello che un telefonino non può fare, un social non può fare, perché siamo prima di tutto come dicevamo prima, cervello e poi il resto. Pensiamo magari a prenderci cura. Allora solo per oggi ho preso diciamo le tre cose per me fondamentali la valutazione della composizione corporea, ok? Questo è un test che si può fare, consiglio soprattutto agli sportivi chi se l'è in un determinato modo di avere questo test come riferimento, quindi andremo a valutare mazza magra, massa grassa e massa muscolare ma soprattutto lo stato di idratazione che è fondamentale nello sportivo. Questo test solitamente ha il costo di 50 euro e solo per oggi chi vuole fissare